Ciao a tutti, Robi Rani qui, qui, qui dove, qui dove sono all'interno della Morte Nera, più o meno Morte Nera, diciamo che è un'esposizione fantastica, santo di Dio, è spettacolare, dettagliatissima, di quelli che sono i mondi di Guerra Stellare. Ve lo straconsiglio vivamente, ma perché ve lo straconsiglio? Perché quest'anno il May the Fort, il 4 maggio, cioè il giorno del patrono di Star Wars, chiamiamolo così, viene infrasettimane, quindi infrasettimane è un casino prendere le ferie, è un casino uscire, la gente ha poca voglia di fare dei chilometri, mentre il weekend no. E qual è il weekend dopo il 4 maggio? È il 7 e 8 maggio. Finalmente ci siamo, finalmente anche quest'anno abbiamo il nostro May the Fort. Qui, Monte Catini Terme, Starworlds.it e Wars Revolution, perché dico due nomi? Perché sono due eventi contemporanei nello stesso paese, ma in due location diverse, con un nome diverso. Cercateli sul web, li trovate entrambi, trovate il loro sito, dove c'è il programma degli spettacoli, dove ci sono i vari pacchetti acquistabili per l'albergo, per il cibo, per tutto, i vostri bambini si godranno completamente la faccia, avranno la possibilità di fare l'accademia, di diventare Jedi insieme a Jedi Generation e The Force Academy, due realtà che fanno lightsaber combat show veramente eccezionali, che voglio salutare. Il 7 e 8 maggio ci saranno tutti, ci saranno anche le legioni, che daranno vita, Cinquecentunesi Metallica Garrison e Rebel Legion Italian Beast, che daranno vita a questi scenari che senza di loro renderebbero la metà. Ecco, 7-8 maggio si concluderà questa mostra, quindi se volete vedere la settimana dopo non ci sarà più nulla, quindi io ve lo straconsiglio, andate anche al Wars Revolution, tanto vi prendete un weekendino, vi fate un giorno o una mattina, una party, il pomeriggio o l'altra. Voglio dire, volevate una risposta? Eccovi la risposta, May the Fort 2016 qui a Monte Catini. E non è tutto, questa probabilmente sarà la prima e unica mostra di praticamente tutti i props in scala 1 a 1 realizzati nel nostro paese. May the Fort e vutanda sotto die sentido vidiè! Vutonna sotto dielli sotto dielli! sono real la force è calling to you just let it in iscriviti al nostro canale